Il campo è come un reddito solo, è il mio, sta due anni di assintegrazione d'anno da riscoltere, è in pagamento da cinque mesi, non si sa nulla di questi soldi, la situazione è ora che non si riscoltereà più la assintegrazione, se quella d'anno ancora sta da riscoltere, quella di ora, quando si riprende, come si fa ad andare avanti. 54 posti di lavoro, 54 famiglie con il fiato sospeso per le vicende della Pratigliolmi di Faella, comune di Castelfranco Piandiscò, un'azienda storica che produce cotto toscano ma che rischia il fallimento. Cassa integrazione, part time, quindi un'azienda che non ha lavorato a regime, ha prodotto 4 milioni di fatturato, un'azienda che ha una cava di proprietà, un'azienda che ha un marchio riconosciuto in regione, in tutta Italia, sarebbe veramente un marchio di infamia per tutti, a tutti i livelli far fallire questa azienda. Il problema sarebbe un importante debito tributario che nel tempo ha pesato sempre di più fino al sequestro del capannone. Noi riteniamo che un'azienda che ha comunque un valore aggiunto da un fatturato non possa licenziare dipendenti. Ecco la nostra richiesta quindi che faremo e coinvolgeremo tutti i sindaci, anche i presidenti della provincia, verso chi rappresenta lo Stato in questo territorio, quindi il prefetto, per cercare di trovare una soluzione. Quale potrebbe essere? Non lo so se la legge ce lo consente. Potrebbe essere ad esempio un possibile accordo con l'azienda di entrate per un pagamento rateale di questi importi, soprattutto riguardo all'IVA che l'azienda deve pagare. Tenendo presente che, come dire, fatemi lavorare e nel tempo potrò pagare i miei debiti. La vicenda che riguarda più di un comune del Valdarno dove risiedono i dipendenti finirà sul tavolo del prefetto. Tutta l'amministrazione sarà loro solidale. Se ci comunicate anche e desiderate vi accompagneremo anche in prefettura e seguiremo la vicenda in tutte le possibilità che ci saranno presentate per potervi sostenere.